buongiorno 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 dal dottor claudio saracino buongiorno dal dottor claudio saracino da benessere ipnosi soluzione oggi risponderò ad un signore che mi ha chiesto del mal di testa cronico che ce l'ha da più di dieci anni cosa fare le ha provate tutte ha fatto la risonanza magnetica l'attacca mille volte in questi dieci anni risulta tutto ok però ha mal di testa cronico cronico bene sta con le auli con i farmaci nessuno dice il contrario beh il sottoscritto anche ha avuto mal di testa cronico e con l'ipnosi di cs vera professionale se ne è uscito al 101 per cento come me centinaia centinaia di persone in italia e nel mondo non devi credere al sottoscritto attenzione analizza e giudica sui fatti anche con un solo audio mp3 dcs di autipnosi di cs vera e professionale dal titolo molto controllo dei nervi tu elimini il mal di testa senza mai senza se con delle suggestioni potentissime della mia scuola della mia associazione i pro leggi associati di los angeles beverly hills del grandissimo professore dottore michelangeli garai della grandissima dottoressa marina brunini miei mentori associati maestri amici per l'eternità per cui non devi credere però sappi che la testa ti fa male a causa dei tuoi pensieri delle tue emozioni negative di tutto ciò che senti provi nelle viscere della tuo dna se tu elimini con delle potentissime naturalissime suggestioni ad hoc questi problemi il mal di testa sparisce ogni tuo desiderio un ordine dice il genio della lampada di aladino perché tu comandi nella tua testa tu comandi nel tuo corpo tu comandi nella tua vita visibile invisibile come è successo a me tantissimi anni fa nel 2008 dove ho salvato mio padre da un ictus fulminante colpito per tutta la metà destra dove tutti luminari della scienza moderna anche degli prosi conformista e commerciale anche medici mi dicevano non c'è nulla da fare dagli l'anticoagulante e lascialo piano piano andare nell'aldilà io non mi sono arreso all'epoca ero uno autodidatta e nell'ipnosi mischiavo tutte le tecniche dell'ipnosi conformista e commerciale ipnotizzando sulla spiaggia al mare nei ristoranti per strada ovunque ovunque con ottimi risultati finché ho scoperto questo metodo della dottoressa lina brunini del professor garai online su skype nel 2008 con una connessione giofei con computer veramente del 15 18 mio padre come per magia si è alzato e ha camminato di nuovo ed è campato ancora per altri dieci anni zoppicando con il bastone è tornato il sorriso è uscito da quel letto dove aveva accumulato piagli di decubito da quasi per quasi due anni perché vegetava letteralmente una depressione cronica e compagnia bella il sottoscritto invece tornato al mal di testa aveva un mal di testa cronico io pensavo addirittura di aver preso da mia madre perché mia madre cardiopatica che utilizza l'ipnosi da più di dieci anni e gli è sparito tutto bene mia madre cardiopatica con un mal di testa incredibile ok un mal di testa incredibile la pensavo che me l'avesse trasmesso a me io ho sofferto per più di vent'anni per cui scusate ragazzi devo lasciarvi ci sentiamo dopo al prossimo video ok un bacio un abbraccio dal dottor claudio saracino mi hanno fermato per cui devo rispondere ciao ciao